Ciao dolci unicorni, guardate cosa ho qui, una nuova bolle delle LOL Surprise Confetti Pop Serie 3 Wave 2 Se volete altri video dedicati alle LOL Surprise Confetti Pop Serie 3 Lasciate tantissimi like a questo video, mi raccomando Ed eccola qui, io a lei ancora non l'ho trovata, però mi piace tantissimo Allora, le LOL Surprise Confetti Pop Serie 3 hanno 9 sorprese Guardateci, anche lei che è troppo carina Ok, bando le cianci, ciancio le bande, iniziamo ad aprire la prima cerniera Perché sono curiosissima di vedere chi troviamo questa volta Apriamo la prima cerniera, e l'ho aperta benissimo e non ci credo Ok, e qui c'è subito l'indizio, subito, 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 quindi devo andare a togliere carte e cartine Ok, e qui abbiamo l'indizio e sono curiosissima, quindi lo giro subito e vediamo Ok, che bello, mi ricordo tantissimo la palestra E c'è un bicipite enorme, gigantesco E poi c'è un peso da palestra e c'è scritto pumping iron, guardate, pumping iron Uh, io non mi ricordo se ho trovato già un indizio del genere, forse sì, forse no Mi raccomando, stoppate se già sapete il club e scrivete perché voglio leggere tutti i vostri commenti Adesso è arrivato il momento di levare la seconda cerniera No, non ci credo, stava andando tutto bene, tutta la perfezione, invece no Ok, leviamo la carta La bolle è rosa, ok Prendiamo anche questi qui che sono gli stickers Che dicono che la nostra lol può o cambiare colore, o sputare, o fare la cosa misteriosa Fare la pipì oppure piangere E questi qui li posiamo qui Ok, leviamo Eccola qui, non la trovavo, l'avevo persa Leviamo invece la terza cerniera Apriamo Ok, vai Questa volta l'ho aperta bene questa qui, ok Allora, no Tatuaggio, non cadere per favore, non cadere Ok, questo lo leviamo Ma io leverei anche questo qui che è... ciao, ciao, ciao Ok, vediamo il tatuaggio E il tatuaggio è un pallone tutto rosa, quasi fucsia, sì Con poi, tipo, tutte le margherite dai lati Ok, questo qui è bellissimo Allora, sì, io ho già trovato una lol di questo club Ma, eh, della wave 1 Mentre la wave 2 dovrebbe essere napping Quindi non dovrebbe essere una doppia E vai Ok, iniziamo a spinnare Spiniamo questa bolle Inizio da queste qua Dora, esci, esci Ho detto che devi uscire Ok, è uscito E vai Allora Uh, qualcosa di grande Qualcosa di gigantesco Ok Sembrano, infatti, un paio di occhiali da sole Sì Ma che carini Cioè, ma che carini Sembrano, tipo, gli occhietti di un gatto Non vi sembra anche a voi? Troppo, troppo, troppo carini Ma che carini, sono tutti neri Ok, li poso No, no, no Qui, non qua sopra Ma qui Questo lo richiudo E continuo a spinnare Ma quanto mi piace spinnare Insieme a voi Perché io so che siete messe lì Che state guardando In attesa di scoprire Chi è questa nuova lol Ho staccato pure un pezzettino di pizza No, vabbè, niente Tanto si possono riattaccare Allora, mi sa che qui ho trovato il vestitino E c'è un buco gigante già nella busta Va bene Sorvoliamo su queste cose E qui c'è l'outfit Wow Ma è totalmente nero Uh, uh, uh Oh mio Dio C'è qualcosa che non va Perché è impossibile Quest'outfit Mi ricorda tantissimo un'altra lol E anche gli occhiali in teoria Quindi non sto capendo Allora, c'è qualcosa di molto molto strano Chiudiamo e continuiamo a spinnare Perché qui c'è qualcosa che non va Oh, forse, forse L'indizio era sbagliato Non apparteneva a questa lol Beh Vediamo, vediamo, eh Ok Allora Prendiamo anche qua E qui c'è tutta la nostra cerniera Per far fare pop La nostra nuova Cuffetti pop Ok Allora Qui cosa abbiamo Cosa abbiamo Abbiamo le scarpine Mi sa proprio che abbiamo le scarpine Se le scarpine sono Allora Le scarpine sono nere Mi sa che hanno sbagliato l'indizio Ma chissene Perché è impossibile Che qui forse ci sia La mia lol Che volevo trovare da tanto Non ci posso credere Ok, ok Forse nella sfortuna Forse sono anche fortunata Non lo so Ok Apriamo invece Qui Le ultime due Le ultime due spicchi di pizza Chiamiamole spicchi di pizza Ok E qui c'è il biberon Il biberon Vediamo di che colore è Vediamo Apriamo Ed è nero Sì Hanno sbagliato l'indizio Hanno sbagliato l'indizio Oh mio dio Però ho trovato lei Ma chissene Che l'indizio è sbagliato Ma chissene Frega Ok Allora Corinne Datti un'altra bella calmata Perché ormai Questi spacchettamenti Sono una gioia Per me Sono veramente una gioia E sono contentissima Che anche voi Gioite insieme a me Perché vi adoro Vi adoro tantissimo Ok Io adesso posiziono La ball in questo modo Perché è arrivato il momento Di far fare pop Alla nostra nuova confetti pop Quindi 3 2 1 Pop 3 2 1 Pop Ok Ok E' scoppiata così Cioè è volata tipo Ok Questo qui la leviamo Che è la checklist Leviamo anche questo qui Ciao 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 Saluti e baci Questo qui invece Buttiamo giù Tutti 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 I nostri confetti pop Ok E vediamo Iniziamo così A scoprire E vedere E capirci meglio Di questo spacchettamento Perché Ripeto C'è qualcosa che non va Ok Questo lo possiamo togliere Questo lo buttiamo giù E ti butto giù Questo lo possiamo anche levare Al momento Ciao Allora Andiamo a vedere L'altro accessorio Di questa nuova LOL E vediamo Qual è questo accessorio Vediamo Vediamo Allora L'accessorio E non corrisponde E' successo un patatrack Mi sa Cioè la bolla E' completamente E' sbagliata Però a questo punto Voglio capire Chi si nasconde Qua dentro Perché qua dentro Io spero Ci sia Con lei Che voglio io E se non c'è lei Non lo so Che cosa posso fare Vediamo Dai capelli Si può capire Boh Ma non lo so Così sembra addirittura Un'altra LOL Direttamente Ma che sta succedendo Non lo so C'è qualcosa Che non va Apriamo Da dove si apre Di qua E vediamo No Vabbè Non ci credo Ma no Ma cioè Ma non ci posso Ma 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 perché Cioè Perché doveva succedere Nuovamente Una cosa Che mi è successa Se ve lo ricordate Mi è successa La stessa identica cosa Con Trouble Maker Ovvero Ho trovato Trouble Maker Con i vestiti di un'altra E io ho trovato Lei Ma con i vestiti Di Dusk Non ci posso credere Mi sono illusa Fino alla fine E questa cosa Non va bene Cioè No Non va bene Non per lei Perché è troppo carina E troppo pucciosa Adesso vediamo chi è E penso che Ovviamente fa parte Dell'Atletic Club Perché l'indizio Allora è giusto Nella LOL Era il vestito E gli accessori E il resto Che non va bene Quindi io ovviamente Scriverò Alla giochi preziosi Perché loro sono bravi Mi rispondono Anzi se voi avete problemi Con le LOL O con qualsiasi problema Loro rispondono Però Questo qui è di Dusk Questo qui è di Dusk Le scarpine Penso che siano anche di Dusk E anche gli occhiali Quindi ho tutto di Dusk Tranne la LOL E l'accessorio principale Che poi è il cappello E' successo un patatrack Allora Andiamo infatti A prendere la checklist E lo scopriamo insieme Con Trouble Maker Mi successe la stessa cosa Ho trovato Trouble Maker Ma il vestito Era di It Baby Ma comunque Andiamo a vedere Allora L'Atletic Club E' questo E noi Abbiamo trovato Lei Short Stop E infatti Guardate il cappello E' quello E i capelli Sono quelli La faccina E' quella Lei è quella Ma il vestito E' totalmente Sbagliato Infatti Questa LOL E così Mi resterà tipo Nuda Tipo in costume Ma non è possibile Non è giusto Perché comunque Dopo che una Ci spende tanti soldi Non dovrebbero succedere Queste cose Questa qui dovrebbe O piangere Oppure cambiare colore Vediamo invece Adesso cosa farà lei E guardate Infatti penso che mi resterà così La posso anche vestire Con i vestiti di Dusk Però Mi farò sicuramente Cambiare i vestiti Intanto Andiamo a scoprire Che cosa fa Eccola qui La piccola Short stop E' arrivato il momento Di farle fare Il bagnetto Lei è veramente Troppo Troppo carina Però ci sono rimasta Veramente male 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 Ok La immergo Lei non cambia colore Perché già L'ho visto E in teoria Dovrebbe piangere Quindi vediamo 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 È tutta bagnata Poi lei già Tipo ha un costumino Di sotto Ok Vediamo Eh sì Lei piange Piange Anche tanto Guardate Tipo una fontanella Assurda Ok Ma che carina Mi spiace Ripeto che Non ho trovato I suoi vestiti giusti Ma ho trovato Quelli di Dusk Quindi ora Come devo fare Ed eccola qui Ho messo Il suo ciuccio E il suo cappellino Perché lei ha soltanto questo Neanche il biberon È giusto No perché È nero È di Dusk Lei è tutta rosa Dove essere tutta rosa E invece no E invece no Guardate il vestito di Dusk Io non glielo voglio mettere Questo qui lo voglio conservare Perché ancora io Dusk Non l'ho trovata E questi qui sono Le scarpine di Dusk Che mi sono illusa Inutilmente E qui ci sono gli occhiali Che ovviamente Sono di Dusk Lei non aveva gli occhiali Ma comunque Fatemi sapere giù nei commenti Se è successo anche a voi Una cosa del genere Io ripeto Scriverò Di corsa La giochi preziosi Per Chiedere delle spiegazioni E soprattutto Se magari Mi possono inviare Il vestitino Giusto suo Perché La voglio vestire Anche se così è tipo Versione estate E già col costumino Però no Voglio i suoi vestiti Voglio le sue scarpine E poi soprattutto Il suo biberon Che era rosa Un rosa stupendo Ok Allora Io vi rimostro La checklist E in questo caso Io non vado A mettere lo sticker Perché comunque Aspetto Magari di trovarla Una doppiona O di completarla Tutta completa Perché mi sembra Un peccato Mi sembra un peccato E quindi Niente La lascio così E magari Su Instagram Quindi seguitemi Sempre su Instagram Vi riornerò Sugli avvenimenti Se mi risponderà Giochi preziosi Come successe Comunque Con Trouble Maker Perché io sono Un pochettino sfortunata Deve succedermi Almeno una volta Se il video vi è piaciuto Fatemelo sempre sapere Con un like Iscrivetevi al canale Per non perdervi I miei prossimi video Secondimi sempre Su Instagram E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Comunque Guardate Come l'ho vestita Perché non potevo Assolutamente Vederla nuda E quindi ho deciso Di mettere Le scarpine Di Dusk Mettere La gonna Di Dusk Lasciare Il sopra Quindi Il costumino Che aveva già lei Il ciuccio E poi gli occhiali Ma non è Troppo carina Così Cioè È troppo bella Non lo so Adesso mi piace Veramente tantissimo E ho deciso Anche di chiamarla Marta Non so perché Ma più la guardo E più Mi ricorda una Che si chiama Marta Non lo so Ma guardate Che carina Ecco Adesso È un pochettino Meglio 차 Un pochettino Un pochettino Grazie a tutti.